Presentato il nuovo Pescara, quello che dovrà cercare di centrare la salvezza in Serie A. La rosa non è ancora completa e col mercato aperto non sarebbe potuta esserlo per forza di cose. Anche se la società biancazzurra, per bocca, in primis del presidente Daniele Sebastiani, lavora su tutti i reparti e conta di arrivare al primo impegno stagionale col Napoli quasi al completo. In difesa arriverà Gionberg della Roma, ormai manca solo l'ufficialità. Il difensore è pronto a lasciare la Roma, dopo che nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra la società giallorossa, l'agente del calciatore Venglos e il suo collaboratore Petras. L'operazione è stata definita e chiusa, il classe 1992 oggi partirà alla volta di Pescara. Il club biancazzurro nelle prossime ore limerà anche gli ultimi dettagli, incontrando ancora gli agenti dello Slovacco e poi arriverà l'ufficialità. Non sarà l'ultimo innesto però, perché Gaston Silva è vicino a sposare il progetto del Delfino, Mijajlovic lo ha bloccato per il match di Coppa Italia vista l'indisponibilità di Molinaro e dunque ci sarà ancora da aspettare. Discorso d'attesa che potrebbe riguardare anche i due nerazzurri Yao e Ngucuri, con cui c'è già un accordo di massima. In mediana c'è l'obiettivo Alberto Aquilani, le strade sembrano avvicinarsi e il giocatore potrebbe chiudere col Pescara un contratto biennale a 500 mila euro di base, più bonus ed incentivi legati a presenze, reti, obiettivi di squadre e personali. Il Pescara inoltre ha chiesto al Napoli il prestito di Grassi, attenzionato però anche dal Chievo, con Gaston Brugman che invece potrebbe essere ceduto da qui, alla fine della finestra di calcio mercato. Infine l'attacco, trotta in gol nel trofeo team di ieri con la maglia del Sassuolo, non sembra però rientrare nei piani di Eusebio Di Francesco e del più vicino ai Biancazzurri. Con Mitrizza e Nicastro, il cui futuro è ancora incerto, nei giorni scorsi per l'altro nome è spuntato Federico Macheda, anche se attenzione alla situazione Iemmello, che non ha trovato l'accordo con lo Spezia e potrebbe accettare le losing di Big di Serie A ed essere poi girato in riva all'Adriatico.